Che siamo in una fase di grande emergenza, siamo dentro una crisi che non è la solita crisi, questa crisi che colpisce questa regione, una crisi che viene molto da lontano, basti pensare che noi abbiamo gli stessi abitanti del 1851, mentre l'Italia è cresciuta da 20 a 60 milioni di abitanti, che sta a indicare la decadenza demografica, però che è decadenza anche economica, sociale e culturale alla fine di questa regione. Quindi da questo punto di vista noi siamo assolutamente consapevoli del fatto che o si cambia e si cambia radicalmente direzione o altrimenti questo Molise rischia di non avere una via di uscita e soprattutto rischia di non avere una classe dirigente che abbia la consapevolezza della radicalità dei problemi che abbiamo dinanzi.